Mino Borracino, chi è costui? È il consigliere del presidente della regione Puglia incaricato per il piano Taranto, ma Mino Borracino è innanzitutto un trombato politico perché alle ultime regionali, pur essendo assessore regionale uscente allo sviluppo economico, non veniva rieletto e allora Michele Emiliano gli ha dato un premio di consolazione, come si fa per la lotteria Italia, non vinci i premi maggiori ma ti diamo un contentino e Borracino l'ha avuto, un contentino di 2000 euro al mese circa, tutto lecito per carità però sono soldi pubblici. L'incarico per Borracino non era certamente previsto tra quelli ordinari, tra quelli statutari, è un qualcosa in più, è un quid pluris, è un contentino politico lecito che si è voluto dare a Borracino e questo signore Borracino si permette anche di parlare della mia persona, io ho eletto democraticamente dal popolo con 4.200 voti, dice Abate non firmando diventa lago della bilancia e a questo punto l'amministrazione Melucci sarà in balia di Abate, sarà nelle mani di Abate che avrà quindi il potere di vita o di morte politicamente parlando su questa maggioranza, dice anche che ora l'amministrazione Melucci, questa maggioranza dovrà seguire i voleri e le bizze di Luigi Abate. Tanto per cominciare caro Mino Borracino, ah Borracino, borraccia, piccola borraccia, piccola borraccia, una piccola borraccia politica, uno che porta acqua al mulino di Michele Emiliano, però è una borraccia che viene anche legalmente, lecitamente anche, riceve una indennità, riceve comunque del danaro pubblico lecitamente per il suo incarico, quindi è una borraccia anche che grava, lecitamente, ma grava sulle casse della regione Puglia. Beh, devo dire che questa battuta di Borraccia Borracino o di Borracino Borraccia non è mia, ma è del notissimo architetto Enzo Di Palma, noto urbanista, uno dei più insigni, forse il più insigni a Taranto, ma al di là, a Taranto e non solo, ma al di là di questa battuta dovevo riconoscere, come dire, il copyright. Beh, caro Borracino, tu evidentemente non hai capito, non vuoi capire il mio gesto. Io, caro Mino Borracino, ho voluto bloccare l'ascesa, l'ulteriore ascesa, l'ulteriore presa, l'ulteriore stretta mortale politicamente di Michele Emiliano e compagni del PD sulla città di Taranto, perché voi volevate politicamente impadronirvi di Taranto, era già pronto tutto, dopo che avete amministrato voi PD, che avete amministrato sette anni con Melucci e io dovevo praticamente unire la mia firma, la mia firma dinnanzi al notaio, io che avevo già deciso di sfiduciare Melucci, ma in Consiglio Comunale, per assecondare i giochetti politici di Michele Emiliano, di Bitetti, del Partito Democratico e quant'altro. Caro Mino Borracino, ma tu non eri quello che prima, che tu diventassi assessore allo sviluppo economico della regione Puglia, tu sparavi a zero contro Emiliano, sparavi a zero contro Emiliano, poi sei entrato in maggioranza, poi sei diventato assessore e ora Emiliano è Dio in terra. Emiliano ti ha dato l'incarico e giustamente tu devi santificare Emiliano, santificalo pure, ma non posso permetterti che tu faccia certe valutazioni sulla mia persona. Io, caro Mino Borracino, sono un uomo libero, sono un civico, non ho padroni, a differenza tua politicamente parlando, tu devi dare conto a Emiliano, tu devi difendere Emiliano, io sono libero di fare quello che voglio, perché sono un civico, sono un cittadino, sono un eletto libero. E allora, se l'amministrazione Melucci pone in essere degli atti, dei provvedimenti che io ritengo positivi per la città, li voto. Se li ritengo negativi, li boccio e critico, come ho sempre fatto, liberamente. Se l'amministrazione Melucci propone dei provvedimenti e io apporto dei correttivi che ritengo essenziali e migliorativi e questi provvedimenti vengono accolti, queste migliorie, questi apporti, questi emendamenti vengono accolti, io sono pronto a votare quel provvedimento. Non ho padroni e caro Borracino, io ho un incarico e una indennità che mi deriva direttamente dal popolo. Non ho avuto il premio di consolazione che hai avuto tu, trombato politico, alle ultime regionali. Ebbè, ci voleva proprio questo per te, cara Borraccia Borracino di Michele Emiliano. Meditate, cittadini, meditate.